Con l'estate e il grande caldo, per molti bergamaschi esplode anche la voglia di esaltare la forma fisica con massaggi, lampade abbronzanti e trattamenti estetici. Ma spesso le offerte più ammiccanti, perché magari meno costose o prive della noia delle attese legate alle prenotazioni, nascondono prestazioni dai dettagli poco chiari. Nella bergamasca cresce sempre di più il numero di centri benessere, cinesi e giapponesi, che allestiscono esercizi commerciali dove le condizioni igieniche non sempre sono adeguate e le qualifiche del personale che impartisce i trattamenti, tutta da verificare. È bene ricordare dunque che affidarsi a mani non professioniste può comportare anche insidie per la salute. Un trattamento male eseguito può infatti peggiorare o far nascere disturbi muscolari e l'impiego di prodotti di origine non chiara può provocare danni dermatologici importanti. Fatte queste raccomandazioni abbiamo sentito i bergamaschi, che sull'argomento si dividono. Io no, per tutto, per i prodotti che adoperano, perché travasano il prodotto nel coso normale. Non li conosco onestamente. Poi non mi fido, non lo so. Boh, magari per i massaggi sì, per il resto non tanto. Non tanto.